E' bellissima, è bellissima, è bellissima. Fantastico. Spettacolo. Ciao, Davide. Ciao. Davide, come è andata, è piaciuto? Hai mai disegnato una Ferrari che non fosse rossa? No, mai. Adesso io mi immagino bambino qua. Poi apprezzi i piccoli rumori delle lavorazioni manuali. Mio padre amava molto sapere come la pensavano gli appassionati della Ferrari. Tutti quelli che seguivano le cose, tutti quelli che amavano il vettore del Gran Turismo Ferrari. Ingegnere, Piero Ferrari. Ingegnere. Piacere. Piacere. Benvenuti. Piacere. Allora avete aspettato 40 anni per visitare la Ferrari. Mio padre conservava tutta la corrispondenza, ci teneva moltissimo a rispondere a tutti. non voleva lasciare le persone senza risposta. E lui riceveva tante lettere, tanta posta, tante dimostrazioni di affetto. Bambini che mandavano disegni, bambini che mandavano le loro idee. Le bambini le richieste più frequenti erano o l'adesivo o la visita alla Ferrari. Caro nonno Ferrari, sono un bambino di 7 anni. Mi piacciono molto i tuoi bolidi dei quali posseggo tutti i modellini. A me piacerebbe molto avere una Ferrari o testa rossa o GTO. Ti volevo chiedere se me ne dai una a poco prezzo. Sono un bambino di 7 anni, tifoso della Ferrari numero 27 di Formula 1. Mio papà ferrarista mi ha costruito un 126 C3 numero 27 con motore AP50 lungo 2 metri e mezzo. Le due auto sono le più belle del mondo. Mi ha fatto molto piacere incontrare tre persone che sono stati bambini, tre persone che hanno scritto mio padre, che hanno ricevuto una risposta. Sono passati più di 40 anni ma loro ancora seguono la Ferrari e amano quello che la Ferrari fa. Ci tenevo ad avere degli adesivi perfetti e non riuscivamo a trovarli. Chiedendoli direttamente in fabbrica direttamente a Enzo forse li avrei ottenuti. E così è andato. Mio nonno ritacchiando mi dice che stai facendo scrive a Enzo Ferrari vai scrivi scrivi che ti risponde. E aveva ragione perché poi mi ha risposto. Questa sorpresa di essere ricercato dalla Ferrari è stata ancora più incredibile perché ma cavolo ma dopo tutti questi anni ancora avete questa lettera. Fantastico. L'amore non passa anche per queste cose qui. L'amore non passa anche per queste cose qui. L'amore non passa anche per questo, come Grazie a tutti. Grazie a tutti.